ebbene a tutti ragazzi sono arxon oggi siamo in un nuovissimo video con mio cugino che adesso inizia pure lui il video vero ecco stai iniziando il video ok inizia a salutare ciao raga saluto il mio primo spettatore non c'è uno spettatore comunque oggi siamo insieme a tizio di legno ciao tizia di legno mi chiamo bene mi chiamo bye bye aspetta un attimo quel cazzo mi chiamo mi chiamo bad dark sul 19 tizio di legno ma io lo chiamo su fotonet così è vero devi rispettare il nome di minecraft su minecraft ragazzi sono tizio di legno quindi la prima cosa che farò è prendere la terra perché lui odia la terra e quindi la vuole sterminare tutta sarebbe bello vero sì sarebbe bello che al posto della terra ci fossero i diamanti però come cazzo andiamo in miniera no per voi dovrebbero stare venire dai mari ma anzi la metà del mondo pieno di diamanti hai ragione ma la metà però tu quanto di legno hai guadagnato quattro io tipo sette adesso che se prendi dodici oppure diciotto di legno puoi farti uno stacchi intero di legna sì e prendere diciotto così stiamo anche sedici tra prendere sedici io non dieci io non dieci io non nove uno di chi non ti occupa la mia legna no dieci uno stacco eh già vi vedano lo sapevi sì lo so ma aspetta ma visto che tu sei tizio di legno ti picchio con il legno ti fa male eh sì vediamo no sì ti fa male pensavo che il legno non ti facesse male perché il tuo amico tu hai picchiato vabbè uno schiaffo a testa ci hai fatto a me vediamo lo schiaffo tu quanti ce ne hai no ne ho undici me li sto cattando tutti quanti e ho 44 di legno adesso oh guarda c'è una pecora andiamo subito io ho 56 come ne hai 56 eh sì guarda c'è un altro legno c'è tipo un tronchi c'è un c'è un c'è un tronchi guarda c'è un tronchi abbattuto io picchio la pecora la vediamo prendo il tronchi come c'è mi è caduta nell'acqua in realtà l'hai spinta tu mi è caduta no io faccio un po' altri faccio un po' ma la voce da tizio di legno sono tizio di legno non è così eh sono un legno non è così e come? eh non lo so eh inviagiamoci da noi eh vabbè facciamo un vinto che questa qua è la tua voce di tizio di legno sono tizio di legno sto raccogendo altra legna e a mani niente ovviamente io con uno stecco e tu l'hai trovato ma? lo sai quella è la cosa più pazza per me o? è che io penso che lo stecco sia la prima arma di minecraft 64? ne vuoi? ti do 8 o? ti do 8 di legno? eh no grazie 2 stick no io ne ho 64 oh io ne sto facendo una 64 tu dove sei scena? ho detto oh no stagli si andrà a calare la notte ho trovato pure un'altra pecora ok ok ho 64 e ho 32 che caccia mi hai dato? 3 e 20 di legno 8 8 1 è sicuro? si ah vabbè ho sciottata 1 e 2 adesso andiamo a farci un rifugio sottoterra no sottoterra e dove? nelle caverne no nelle caverne no perché ci vengono i mob vieni e dove andiamo? sotto l'albero! sotto un albero! sotto un albero andiamo qui sotto vieni 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 segui siamo stretti no c'è un buco per due io lo stecco sai vabbè tu fatti un buco per terra sotto l'albero io mi faccio un buco per terra sotto casa frate non venire nel mio buco non venire nel mio buco ma tu dove sei a fianco? si non venire noi ci incontriamo e facciamo una piccola finestrina va bene no io lo sto allungando ciao tizia di legno allungiamo questo posto non vedo niente io lo sto allungando dove sei? frate perché lasciare il buco? so di legno tu come ti chiami il vero il tuo nome e il personaggio? il mio è bad darksoul 19 però chiamami direttamente darksoul ti devo dare una cosa? dimmi dimmi dammi dammi guardami dai cos'è? che cos'è? direi cos'era? oh scusa oh scusa ahia aspetto il bonsai che figata frate c'è l'hai dell'altro legno però non creato in queste assi di legno? no forco due dai raga un minuto e non facete caso eh che sto qui sopra eh no raga non fate caso che cosa sta lì sopra ovviamente lo sto dicendo a voi ragazzi che guardate dal mio canale youtube perchè vedono anche a me? no vedono solamente a me o si stanno guardando dal mio canale youtube il mio scritto sta vedendo guardate ma se combattiamo i zombie ma è vero c'è un obiettivo che si chiama ahhh che si chiama combattichi i zombie aia e togiti tog tog scavaci ah ma ho detto un pugno a testa dovevamo fare aspetta aspetta però non vedi la chiudami subito eh voleva farmi uccidere a me lo volevo uccidere io perchè l'obiettivo non lo voglio avere l'obiettivo intanto brate prendete il legno che ci facciamo le torce cioè il carbone il carbone uccidevi il bagno brate non picchiarlo tu l'ho ucciso creeper il gran creeper è esploso vieni sto venendo ho pochi suoi sei sicuro? eh due brate scappa no no sei morto l'ho uccido manuel vieni vieni mi sto cavando bene venite qua venite qua adia ops manuel l'ho shottato lì manuel che? lo saprei quanti cuori hai dentro? quanto? due e mezzo me ne ho lasciati però manuel vieni qui sotto non è casa nostra indovino è esploso un creeper si e il ciclino mi ha lasciato con tre cuori e mezzo è coppa mia si io tu sei entrato ma noi però prendiamo anche la terra hai ragione prendi un po' di terra io prendo un po' di legno io ho 55 però dovevo fare una cosa fighissima che cosa? dovevo fare che noi facciamo eh facciamo vinta che non abbiamo una casa e adesso sopravviviamo qui davanti al buio signore mi dica signore guarda togliti sto scavando signore guarda chi mi ha dato dimmi signore io ti voglio spacchiamolo insieme no non voglio manuel tu ti terra quanto ce ne hai? ne ho 6 va bene ne posso dare molto di più io? sei grazie grazie dai mi la porto per la terra ma ne avevi 60 veramente? 60 no ne avevo 56 ma tu sei veramente un pazzo cioè in realtà ne avevi 54 perché 4 più 6 no è 56 no è 56 ma 56 più 6 aspetta te vedo attra basta no darmi uno stacchi intero di terra vabbè dammelo quanto te mi hai preso? 64 non puoi preso anche un pezzo di seme lo sai non darmelo per favore giocino 2 io no questo vedete ritorniamo a casa no dobbiamo dobbiamo esplor hai fatto l'obiettivo no perché perché l'obiettivo l'obiettivo si sblocca solamente quando hanno uccito il mob da solo mi prega dobbiamo trovare un mob e lo devo uccidere io tu non lo devi nemmeno toccare ti segui dai ti segui tanto supporto è figa è meglio tipo così così troviamo qualche creeper ci salta in aria proprio in faccia e moriamo entrambi il fine della storia frate frate tu devi vivere l'esperienza quando sei lì uno uno vieni vieni un zombie che figata no quello zombie è mio quello zombie è mio no ma noi non ci andiamo è mio non ci andiamo vieni qui sai o meno e vado perché sta una strega è che pure un gripe lo senti dammi vieni dammi vieni ah no tu uccidi questo va bene è un uccido vieni qua ah eh no cazzo mi sei messo stop ah no hanno due uovi stai lontano dal mio amico ora stai lontano mi devo sbloccare l'obiettivo si cacciare i mostri ahhhh che è vero io sto con vai 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 sei morto eh dove siamo però il clima è morto di un uomo pure per zombie ma dove sei eh io sono nella zona in cui sei morto vieni eh frate non posso sprintare perchè perchè c'ho tre cosciotti è per il mio cibo ma devo sapere il cibo e e io e voi tu ti arrangi no ma non è più venuta a me sto venendo però mi sento dei rumori strani tu dammi per le mie cose tu dammi per le mie cose vabbè te le do però due stacchi di legno uno è mio due stacchi e trenta e mezzo due stacchi e mezzo no no due stacchi è mio no vedi sconto che ne senti da mezzo stacchi quello la che avevamo no 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 uno stacchi quello stacchi che ho è mio uno stacchi uno stacchi che ne dici uno stacchi sì tutto dai uno solo stacchi però mi sento di camminare cammina a basso il volume ok vediamo no tu tu dove sei? no la foresta selva fosca selva fosca in che direzione è? quanti chilometri sei? ti aggiungo io freddo mi sono 40 fino a un 57 freddo mi sono 40 freddo stiano a noi nel 50 46 ok e 140 no 200 50 245 e come si va a montare? vabbè frate viaggiamo un pochino e io vabbè a me si è toccato minecraft no frate allora facciamo una cosa io mi metto nel punto più alto di minecraft ok aspetta la foresta l'ho trovata al fianco c'è una parude no aspetta ma quella ma non mi ricordo quella montagna io vorrei trovare questa montagna ma non metti i mandini in ventaglia no dai almeno si muovi anche tu e almeno metti i mandini in ventaglia e li mandini in ventaglia no frate questo altrimenti non li sblocco gli obiettivi ti ho detto mi li sblocchi tutti con me eh appunto frate se attivo i trucchi frate nel mantieni in ventaglia sta nei trucchi e se attivo i trucchi non posso avere gli obiettivi si dopo lo togli no lo stesso non li posso più sbloccare eh io sto bloccato qui in mezzo solo io allora staremo bloccati insieme per un bel po' e se facciamo la tua sopravvivenza no 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 e io guarda allora lo sai cosa facciamo cerchiamoci e se ci disperdiamo? ma che ci disperdiamo non è però ma il tuo nome è tu non lo vedi tu e mio lo vedi io il tuo non lo vedo io io lo vedi però smetti gli uccidi frate ma che cazzo gli uccide a fare le pecore almeno il dito del cibo ecco la mia nome la veda mi sa non lo so togli il dito si l'ho visto vai io non vedo però il tuo dove sei? Tizio di legno Tizio di legno Ciao Tu mi dai un mio stacco di legno? Tieni Mi dai qualcosa da mangiare Che ho 4 cuori e mezzo Tieni Oggi lo facciamo Oggi andiamo al caccio di animali Perché la fame sta iniziando a cadere Io non ce l'ho ancora Aia Ah no non mi sono fatto male Tizio vieni sto più lontano Mi chiamo The Dark Soul porca puttana No come ti chiamo Tizio ti chiamo Ma non mi chiamare Tizio Tu ti chiami Tizio Tizio di legno Vieni dove sono Ma aspetta se ti porto nella lava mori Eh si Ah è vero sei di legno Penso fossi di metallo Ma Manuel vieni da me Come stanno i coninghi Oh cazzo Prendi subito i coninghi Prendili subito I coninghi si allontanano Non si camminisce il tato No però E devi prendere quello che stanno dietro Guardate c'è una striscia di lava La copro con la terra E stai a te perché ci vorrebbero essere Nella lava Non hai rari quello che è successo Hai buttato il coniglio nel cuore No il coniglio si buttano solo nella lava Per scavare da me si buttano nella lava Ma sono veramente così brutto Ma io ho pochi cuori di cibo Non ti fa due e mezzo Stanno finendo Aspetta Ma spartiamo questo albero Non è un albero E lo so È un fungo gigante Danne funghi Ci facciamo una minestra È vero il minestrone è buono Cioè tu lei mi ha annunciato il minestrone Sì Buonissimo Non è uno Due a tre Io prendo questi cazzo di conigli Dai Dai cazzo di conigli La mano a Dammi il mie sticco Un attimo Un attimo Frate ci faccio un arco Non ci possiamo fare Tutte e due No Solamente uno Vabbè uno di noi dovrà essere l'arciere E l'altro il combattente Anzi aspetta Chi vuole essere il combattente? Tu E tu deve essere l'arciere? Anzi Non bravo a mi vale ma Aspetta Vieni con me C'è un piccone Eh no Ebbene No frate che dobbiamo ritornare alla base Frate no seguimi Frate ci perdiamo di nuovo Ma aspetta ma questo possiamo fare come base Non è una miniera così grande Puoi vedere? Hai ragione Un'altra cosa dell'acqua Anzi non la dobbiamo Lo usiamo come pagno Come doccia veramente Anzi andiamo a cercare altre basi Manuel tu quanto Agia Cosa? Io do un po' Si trova qualcosa per te Io ho tre cosciotti Però Non posso nemmeno correre Perché? Perché quando hai tre cosciotti Non puoi correre E guarda Guarda Tu dove sei? Io sono qui Fran non direi che ci siamo persi di nuovo No no Ah seguimi Io ci gioco da più tempo di te Guarda che ci va metti Frati sono proprio sopra la tua testa Ah Guarda guarda sono qui Ciao Frati ti devo dare un pugno Per farti vedere dove sono Ti ho visto Ah ma porca buca Guarda i miei stick per piacere Quanti ne avevi? Tipo tre Mi servono tre Sì no Dammi a me due Va bene Allora aspetta un attimo Ti Che bello però Frati quando sei shiftato Sei così carissimo E guarda Shiftati E guarda quanto sei carino Picchiami Sono carino io quando mi shifto Ma ho fatto Puoi comitare da mio cellulare Come sei Ehi non mi cambia le stave Ehi tu sei di legno Non ti fai tanto male Al massimo mi fai male tu Perché mi metti le tue schegge Sui miei poveri piedi Guardate mi mangio Guardate mi mangio L'occhio di ragno E' velenoso E va bene Tanto almeno mi cura un pochino Perché mi cura un po' la vita Mangio pure la carne di zombie L'unica cosa che ho Cazzo A me lo diceva Cazzo come cazzo è cambiata la cosa della fame Questa è un po' la mia che abbiamo trovato prima Guardate ci penso che nel prossimo aggiornamento di minecraft Ringeranno che la carne di zombie oltre che acciderà la fame Ciderà pure il veleno No aspetta Fa che la carne Dove se è carne di marcia che non ci da niente Che sarebbe una carne normale Allora se la carne di marcia gliela puoi dare ai cani Sì Guardate Lo devo fare No 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 C'è il cascato Ho un cuore e mezzo Due Fratello vedi qui la foresta Quella con gli alberi tutti quanti scuri e bellissimi Sì andiamo a spaccare No Non ci andiamo Perché? C'è una casa gigantesca Piena di cose con l'ascia Cosi che evocano i vex Andiamoci Fratello c'è un cuore e mezzo Mi sciottano Mi sciottano appena Le popolo gliela Mi resta quella labbra Ti faccio una zuppa Beh andiamo Tanto andiamo a quest'altro più vicino Speriamo che non troviamo una casa durante il viaggio Per favore Tu però fai Fai dove La scotella Avete Tanti funghi Sì due Anzi no quattro Tutte e due Io ho due Tieni Tu fammi La ciotola Tu fammi la ciotola Tieni i funghi Ma tu fammi la ciotola Sì Fammi la ciotola Me la sto facendo Porco due Frate andiamo a farci un buco sottoterra di nuovo No 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 Ce la caviamo Frate no Frate ho un cuore e mezzo Aspetta Vieni vieni Nella dove sto io Frate no Ma guarda guarda Ciao frate no 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 Non mi importa se ci perdiamo Almeno io sopravvivo Tu fai quel cazzo vuoi tu Divertiti Con il mob Infatti anche io Tengo una casa E guarda io la mia casa Non mi prende nessun mob Si staggono le liane Le liane vabbè Non fai niente Eh però i mob si possono arrampicare No perché io metto un blocco Oh al tavolo Yeah Nuovo obiettivo Come al tavolo Non lo so Ho scavato un pezzo Ho scavato Mi sono fatto un pezzo Mi sono fatto questa caverna diciamo E mi ha dato questo accintimento E ragazzi scrivetemi sotto Nei commenti Che come si Come si sbloccava questo obiettivo Un attimo che vado a vederlo subito No No Acqua da amma Tu a difeso No dove sta Dove sta Come si chiamava Come si chiamava Al tavolo Al tavolo Ok si chiamava al tavolo Manuè tu Vieni da me ti faccio una ciotola Un attimo Da minestra Vieni nel mio buco Non lo so dove Non lo so dove No vieni tu Nella mia casa Come cazzo faccio Uh Questo devo fare come accintiment Pane No questo Come si fa Uccidi un creeper Con un Con Con l'arco Si ma troppo Che frecce Ma no io non trovo la ciotola Zuppa Devevo fare Oh no Non mi faccio un bel piccolo Il legno Devevo fare anche a me Eh frate non ci vediamo Non riusciamo a vederci Tu dove sei dai Io sono in un buco frate Mi vedi il nome Quanti cuori c'hai? Un'ora e mezzo Scavami sopra Che non ti vedo Frate no Entrano i mob Vai scava Bene se muoio Poi la roba Me la ridai tutta Da prima Fino all'ultimo Ecco Il miniera Un altro Chintment Avevo con me Ti porto fortuna Si però frate Puoi ritappare il buco Per favore Prima che entra un mob Non ce l'avevo La terra Aspetta Quanti cuori c'hai di cibo? Sempre un'ora e mezzo Fammi la ciotola Va bene Un attimo Un attimo Un attimo Ciotola Ciotola Aspetta Mi posso prendere Un po' di legno? Vai Tieni Ciotola No cazzo Tieni Mi aspetta Prese Prese Ah si E prendi Cucina Che io Cio fanissima Dammene 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 Due Subito Una me la tengo io Oh mio dio Ti hanno dato tutti i cuori? Si Oh mio dio Frate Tieni Finalmente Ti devi dare un'altra Ne vuoi un'altra? No frate In realtà io non ne ho mangiato una sola Piccolino ne vuoi un'altra? Si Finalmente adesso ho quattro cuori finalmente Ma mi ne ho dato? Si ce ne hai due Ok adesso ne ho Ce ne ho uno Due ce ne hai? No ne ho uno Guarda lì Uno l'ho mangiato E con questo qua Ma andiamo un po' E buco Meno Si Frate mamma mia Adesso mi mancano solamente tre cuori Frate tu non scavare Frate non scavare in alto No questo è un punto Adesso Scusa scusa Dammi un culo No non fa niente Frate un attimo Che ti faccio vedere Un trucchetto Che mi sono Che ho imparato da solo Su come non fare entrare i mob Però possiamo avere Tipo una piestra Il tuo cesto E appunto Damabbo Dai un trucco bello Perché i mob A parte che non ci possono nemmeno attaccare Possiamo spiegare fuori E metterci la roba dentro No domani ci trasferiamo da qui ovviamente Ovviamente Ahia basta Fami un cazzotto Ok Di più Ma come cavolo fai a non farti male? Non so Però tutti qua Ho la vita al massimo Finalmente Io no Però mi manca ancora un cosciotto Ah guarda 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 io A te sono 30 minuti che registri Un attimo Sì da te sono 30 minuti A me sono Anche a me 30 minuti Aia Queste cose qui Sono le barbarvietole Perché ho bababustiche Ma che cazzo Raga per favore potete inviarmi su Amazon Un amico migliore di questo Perché mi sa che è drogato Togliti Togliti Frate stavo scavando Ti sei bella fornace Togliti Basta La scavata va a tua parte Ma è carino come lo chiamate Bababustiche No Quanto più hai? 3 5 7 3 Aspetta Basta 8 Vabbè tu fai ne 8 6 Ne prendo anche per te un piccone di legno Io mi faccio la fornace Perché ci serve la fornace Dobbiamo fare la carbonella Ce l'abbiamo nel legno Non è lavorato Scusa Scusa Eh scusa Non fa niente Sì ti faccio una sorpresa Quale? Eh niente Dimmi Che cos'è? Che è successo? Ti do fa una sorpresa Dimmi Cosa mi hai dato? Un piccone di pietra No no Non ce l'ho Non hai dato A me ne ho fatti tre Situazione bollente Com'è Oh frate ho sbloccato Due obiettivi che non so nemmeno come cazzo si sbloccano Vabbè forse è tipo otto fortuna Eh forse sì o forse no Frate non rubarmi il legno che c'è nella cesto Nella fornace No frate quello è il mio carbone Ah grazie Però frate non rubarmi il carbone Ok Oh aspetta Ho quattro mele Dai quattro di carbone Hai quattro mele? No Cosa mi vorresti dare? Vogliamo commerciare? Sì Allora tu cosa mi scambi? Dobbiamo fare uno scambio Allora facciamo una cosa Non blocco No il tuo piccone di pietra Per due di carbone Che ne dici? Buon affare? No Come no 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 Quanto carbone vuoi? Allora mi dai Cosa? Cosa vuoi? Cioè Dammi questa Ok E due di carbone Perché? Perché? Cosa sarebbe il prezzo intero? Ehm Ci fa Tutto l'inventario No 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 C'errino anche questi Sì Guardi te l'ho appoggiato La tua roba Eh vabbè me l'hai fatta riprendere Guardi dammi E ti aspetta Che tu Che tu un anno ci hai messo per capirlo Che te l'ho appoggiato Allora del carbone Ed ecco il legno Ok Il legno Ehm Dotto è arrivato il giorno? Manuel io faccio il falò Il falò È vero? No io l'ho graftato Quello hai graftato? Sì Dove sta? Facciamolo frate Con questa cosa possiamo cuocerci la roba gratis Bravo Sì frate Andiamo subito a trasferirci Prendiamoci anche il cesto Prendiamo tutto No frate Sta piovendo Frate Sta piovendo Sta piovendo Sta piovendo Sta piovendo Niente Frate Lo sai col cede quando piove vero? Aspetta Che i map non bruciano Cambiamo medio Cambiamo Cosa? No Mettiamo giorno No? Cambiamo in medio Frate No Non possiamo Non ti ricordi Non ti ricordi Vabbè io ho fatto un po' Mettere il falò Però attenzione a non camminarci sopra Perché? Prova Sei di legno Ah e tu non ti fai niente? Eh sì Lo stesso mi faccio qualcosa Guarda E veramente Guarda quanti cuovi c'ho io Quanti? Uno e mezzo Wow Ok Hai roba cruda Hai roba cruda? Del cibo crudo? No Ho dei fuchi Oddio Beh ragazzi Per questo episodio Ci saluto Ci saluto Ciao Ciao Ciao